Don Chisciotte della Mancia, capitolo terzo, del gentil modo con cui Don Chisciotte fu armato cavaliere. Travagliato da questo pensiero, accelerò il fine della scarsa cena che quella taverna gli aveva somministrata. Poi, chiamato a selloste, si chiuse con lui nella stalla, ed Ivi, buttandose gli ginocchioni dinanzi, gli disse, non mi leverò mai di qua, o valoroso cavaliere, se prima io non ottenga dalla vostra cortesia un dono che mi fo ardito a chiedervi, il quale ridonderà gloria vostra ed a vantaggio del genere umano. L'oste, che vide l'ospite a piedi suoi, e udì questa fanfaluca, stava se ne confuso guardandolo, senza saper che fare o che dirgli. Ne mai per pregar che facesse, ottenne che si rizzasse, finché non gli ebbe promesso di fare quanto gli chiederebbe. Meno attendermi non dovea dalla vostra magnificenza, o mio signore, riprese Don Quisciotte. Ed ora vi dico che il dono che intendo di chiedervi, e che già mi viene conceduto dalla liberalità vostra, si è che domani mattina mi abbiate ad armar cavaliere. Questa notte io veglierò l'arme nella chiesetta di questo vostro castello, e domani mattina, come ho detto, dare in compimento a quello che tanto desidero, affinché mi sia lecito scorrere le quattro parti del mondo, cercando avventure, in favore dei bisognosi, come debito della cavalleria e dei cavalieri erranti, qual mi sono io. Il desiderio è tutto volto a simile imprese. L'oste, il quale, come si è detto, era volpe vecchia, ed aveva già qualche sospetto che l'ospite suo avesse dato volta al cervello, se ne persuase intieramente nel sentirlo così ragionare. E per aver da ridere in quella notte, si risolse di assecondarne l'umore. Gli disse pertanto che quel suo divisamento era indizio della più fina prudenza, e che una tale sua inclinazione era tutta propria e connaturale a cavalieri di quell'alta portata, che egli mostrava di essere, e di cui faceva testimonianza la sua galante presenza. Indi aggiunse che egli stesso, nei primi anni di sua giovinezza, erasi dedicato a quell'onorevole esercizio, recandosi a tal fine in varie parti del mondo, cercando avventure e visitando per cieli di Malaga, l'isola di Riarano, il compasso di Siviglia, l'azzoghescio di Segovia, l'oliviera di Valenza, rondigli di Granata, la spiaggia di San Lucar, il porto di Cordova, le ventiglie di Toledo, e molti altri paesi, che qui vi egli aveva esercitata la leggerezza dei suoi piedi e la pieghevolezza delle sue mani, occupandosi in ogni maniera di ribalderie, facendo cioè continui torti, sollecitando molte vedove, svergognando non poche donzelle, ingannando molti pupilli, e finalmente rendendosi noto a quante curie e tribunali ha la Spagna, da ultimo poi esser venuto a starsene in quel suo castello, dove si viveva con la propria e con la roba altrui, prestando ricovero a tutti i cavalieri erranti d'ogni qualità e condizione, unicamente per la molta affezione che ad essi portava, e per la speranza che, nel prender commiato, dovessero dividere con lui ciò che avevano, in ricambio delle sue buone intenzioni. Soggiunse poi che in quel castello non vera chiesetta in cui begliar l'arme, già che l'avea demolita per rifabbricarla di nuovo, ma che sapea benissimo che in caso di necessità poteasi far quell'ufficio ove più tornasse in acconcio, e che quindi potea quella notte vegliarle in un andito del castello. E la mattina, col favore del cielo, sarien si compiute le debite cerimonie, di maniera che egli si trovasse armato cavaliere, e tal cavaliere qual ver un altro nel mondo. Gli domandò inoltre se aveva seco denari, ma Don Quixote rispose di non averne manco un quattrino, non avendo mai letto che alcun cavaliere errante portasse denari con sé. A ciò l'oste rispose che egli viveva in errore, mentre supposto pure che di ciò non si facesse menzione alcuna nelle storie, gli scrittori l'aveano omesso, giudicando che non bisognasse notare una cosa sia evidente e sia necessaria quanto è questa di non andare mai senza denari e biancherie di bucato, e non doversi perciò dubitare che non ne fossero ben provveduti. Avesse quindi per fermo e incontrastabile che tutti gli erranti cavalieri dei quali son pieni cotanti libri portavano seco una borsa molto ben provveduta per tutto quello che loro potesse avvenire, e che inoltre recavano seco biancherie ed una cassettina piena d'unguenti per le ferite che riceveano, poiché nei campi e nei deserti dove si combattevano e rimanevano feriti, non si trovava sempre chi all'istante imprendesse la loro cura, a meno che qualche savio incantatore, loro affezionato, non li volesse soccorrere, facendo giungere a volo per l'aria in una nube, o una donzella o d'un nano, con una tazza piena d'acqua di tal virtù, che a gustarne per una goccia guarivano dalle piaghe e dalle ferite, come se non avessero mai avuto alcun male. Ma potendo anche mancare questo soccorso, i cavalieri antichi trovarono sempre assai necessario che i loro scudieri avessero seco denari, ed altre indispensabili cose, come a dire fili e unguenti per medicarsi, e quelli che mancavano di scudieri, ciò che assai di rado avveniva, portavano egli noi stessi si fatte cose in bisacce tanto sottili che quasi non si scorgevano, mettendole sulla groppa del cavallo come se fossero oggetti di maggiore importanza, già che fuori di simile necessità, non fu mai costume dei cavalieri erranti di portar seco bisacce. Però lo consigliava caldamente, ed anche glielo comandava, come al figlioccio qual era o stava per essere, che in avvenire non viaggiasse mai senza denari e senza le suggerite precauzioni, poiché quando meno se lo pensava, conoscerebbe col fatto quanto gli gioverebbe l'esserne provveduto. Promise non chisciotte di fare quanto gli era consigliato, dopodiché fu deciso che egli vegliasse l'arme in un vasto cortile, che stava al lato di quell'osteria. Raccolte che le ebbe tutte, le pose sopra una pila che giaceva accanto di un pozzo, ed imbracciata la targa e presa la lancia, misesi a passeggiare loro dinanzi col miglior garbo del mondo, avendo cominciato il passeggio all'avvicinarsi della notte. L'oste informò quanti ritrovavansi nell'albergo della pazzia dell'ospite suo, della veglia che faceva allarme e della fiducia in cui era di dover essere armato cavaliere. Parve a tutti mirabile quel nuovo genere di pazzia, e fattisi ad un luogo d'onde potevano spiare quello che il nuovo arrivato facesse, videro che con decorosa gravità talor passeggiava e talvolta appoggiato la sua lancia tenea l'occhio fisso all'arme sue, senza levarnelo per buon tratto di tempo. Si fece poi notte del tutto, ma la luna mandava così gran luce da poter quasi gareggiare con l'astro che gliela prestava, di modo che ciascuno vedeva benissimo tutto ciò che il novello cavaliere faceva. In questo mezzo salto in capo ad uno dei vetturali che stavano nell'osteria di abbeverare i suoi muli, e gli fu perciò mestieri di levar dalla pila l'arme di Don Chisciotte, il quale, vedendo costui, con alta voce esclamò, «Oh tu qualsia, ardito cavaliere, che osi por mano sull'arme del più valoroso errante che abbia già mai cinto spade, pon mente a quel che fai, e non toccarle, se non vuoi pagare con la vita, il fio del tuo grave ardimento». Il vetturale non si curò di quelle ciance, e questo fu gran male per lui che poi dovette curare la propria salute, e prendendo le cinghie dell'armatura la scagliò gran tratto lontano da sé. Quando Don Chisciotte ciò vide, levò gli occhi al cielo, e volto il pensiero, per quanto parve a Dulcinea sua signora, disse, «Soccorretemi, signora mia, nel primo cimento che presentasi a questo mio petto vassallo vostro, dè non manchi a me in questo primo incontro, il favor vostro e la vostra difesa». Proferendo queste ed altre tali filastrocche, deposta la targa, alzò a due mani la lancia, e dato con essa un gran colpo sulla testa a quel vetturale, lo stramazzò così malconcio, che se un altro gliene accoccava, non avria più avuto bisogno di un medico che il risanasse. Ciò fatto, raccolse l'arme sue, e ricominciò a passeggiare con la stessa tranquillità di prima. Di lì a non molto, essendo ignaro del fatto, perché il vetturale giaceva tuttavia fuor di sé, un altro ne sopravvenne, avvisandosi, come il primo, di abbeverar i suoi muli. Anche costui tolse l'arme onde sbarazzar la pila. Malirato Don Chisciotte, senza proferir parola o chieder favore a chi che sia, getta una seconda volta la targa, e alzata la lancia, senza romperla, della testa del vetturale ne fece più di tre, giacché la spaccò in quattro parti. Accorse a rumore tutta la gente che trovavasi nell'osteria, e con gli altri anche l'oste. Come Don Chisciotte li vide, imbracciò la targa, e posto mano alla spada, così imprese a dire. O donna di beltà, vigore e sostegno dell'affievolito mio cuore, ora è il tempo che tu rivolga gli occhi della tua grandezza a questo cavalier tuo prigione, a cui è imminente così perigliosa ventura. E tanto lo accese il fervore con cui pronunziò queste parole, che non l'avriano fatto retrocedere tutti i vetturali del mondo. I compagni dei feriti, vedendoli i pesti a quel modo, cominciarono da lontano a mandare sopra Don Chisciotte una pioggia di pietre, ed egli andavasi parando alla meglio con la targa, e non osava scostarsi dalla pila per non abbandonare le arme. L'oste gridava forte che non maltrattassero, avendo già fatto saper loro che era un pazzo, e che un pazzo la passerebbe netta quando anche li ammazzasse tutti. Don Chisciotte, dal canto suo, con più alta voce, li chiamava tutti codardi e traditori, aggiungendo che il signor del castello era un vile e malnato cavaliere, da che tollerava che si trattassero a quel modo i cavalieri erranti. E' buon per lui che egli non era per anche armato cavaliere, altrimenti gli avrebbe fatto pagare il fio del suo tradimento. Di voi, poi, ribalda e basta canaglia, non fovero un conto. Scagliate, accostatevi, oltraggiatemi quanto potete, che bene avrete il guiderdone che si conviene alla vostra stolida audacia. Proferì queste parole d'un modo sì risoluto e sì franco che mise uno spavento terribile negli assalitori, i quali tra per questo e per le persuasioni dell'oste cessarono dal colpirlo, e si ristette pure egli dal tentar di ferire, tornando alla veglia dell'arme sue con la stessa tranquillità e col sussiego di prima. Non parvero appunto piacevoli all'oste le burle di questo suo ospite, e quindi si decise di finirla di quel suo malaugurato desiderio di essere armato cavaliere prima che non avvenisse di peggio. Accostatosi a lui, pertanto, si scolpò di quanto gli era stato fatto da quella bassa gente, che senza sua saputa era arrivata tanto eccesso, e lo assicurò che a suo tempo ne pagherebbero il fio. Gli ripetè, come gli aveva detto già prima, che in quel castello non trovavasi chiesetta, la quale peraltro non era necessaria, mentre ciò che importava per essere armato cavaliere consisteva nello scapezzone e nella spiattonata, per quanto egli sapeva del cerimoniale dell'ordine, e che ciò poteva farsi anche in mezzo ad una campagna. Aggiunse che egli aveva adempito già all'obbligo di vegliar l'arme, giacché bastavano due ore sole, ed egli ne aveva vegliate già più di quattro. Se ne persuase Don Chisciotte, e gli disse che era pronto ad obbedirlo, e che s'affrettasse a compiere ogni cosa con la maggior prestezza possibile, perché se un'altra volta fosse assalito, quando egli si trovasse già armato cavaliere, aveva deciso di non lasciar in quel castello persona viva, tranne coloro che da lui fosse comandato di rispettare, ai quali per amor suo perdonerebbe la vita. Impaurito il castellano, da tale protesta e da quanto aveva veduto, andò subito a prendere un libro in cui registrava il fieno e l'orzo che dava ai vetturali, e facendosi recare da un ragazzo un pezzo di candela, seguito dalle due già dette donzelle, venne alla volta di Don Chisciotte. Gli comandò allora di mettersi ginocchione, e leggendo il suo manuale, a modo come se recitasse qualche divota orazione, a mezza lettura alzò la mano e gli diede un gran scappellotto, poi con la sua medesima spada una gentil spiattonata, mormorando fra i denti come uno che recitasse qualche preghiera. Fatto ciò, comandò a una di quelle dame che gli cingesse la spada, la qualcosa essa eseguì con molta disinvoltura e buon garbo, che veramente era difficile contenersi da ridere ad ogni passo della cerimonia, ma le prodezze che avevano veduto eseguire dal novello cavaliere metteva un freno agli scherzi. Nel cingergli la spada, la buona signora gli disse, Dio faccia che la signoria vostra riesca il più fortunato dei cavalieri e cabbia gloria in ogni cimento. Don Chisciotte allora la richiese del suo nome per sapere a cui fosse tenuto di tanto favore, divisando di farla partecipe dell'onore che meritarsi potesse mediante il valore del suo braccio. Rispose ella con molta modestia che chiamavasi la Tolosa, figliuola d'un ciabattino originario di Toledo, il quale faceva il suo mestiere nelle bottegucce di Sancio Bienaia e che lo avrebbe servito e tenuto per signore dovunque avesse avuto la sorte d'avvenirsi in lui. La replicò Don Chisciotte che gli facesse favor per l'avvenire di pigliarsi il don chiamandosi Donna Tolosa ed essa glielo promise. Lo stesso colloquio tenne con l'altra donzella che gli mise lo sprone. La domandò del suo nome ed essa rispose che chiamavasi Molinara e che era figliuola d'un onorato mugnaio Dantechera. A questa pure domandò Don Chisciotte il favor che chiamarsi facesse Donna Molinara, offrendosele ad ogni suo servigio e favore. Compiute poscia con la più gran fretta le cerimonie non mai vedute prima d'allora, Don Chisciotte non volle tardare pur un momento a mettersi a cavallo per andare in traccia di venture. Posta quindi senza indugio la sella ronzinante vi salì sopra ed abbracciando il suo albergatore gli disse le cose più strane del mondo ringraziandolo senza fine del favore di averlo armato cavaliere e tali che non sarebbe possibile riferirle a dovere. L'oste oltremodo voglioso di vederlo fuori dell'osteria rispose con non minore ampulosità ma con più brevi parole e senza chiedergli pagamento dell'alloggio lasciòlo andare alla sua buonora.